e questo è timeline, benvenute e benvenuti a timeline, oggi iniziamo così con la meravigliosa colonna sonora di 8 e mezzo di Federico Fellini e ricordiamo la grandissima Sandra Milo che questa settimana ci ha lasciati, tantissimi i ricordi sui social per un'attrice che davvero è stata e sarà per sempre un'icona e l'ha ricordata anche lei sui social, la nostra prossima ospite, una bravissima attrice, una delle più bravi attrici italiane che abbiamo nel nostro paese, l'avete vista in tante fiction, l'avete vista al cinema, in tante commedie, anche in film molto impegnati e anche una mia amica ma lei insomma non mi vuole abbracciare, vi dico soltanto questo, adesso capirete perché per la prima volta a timeline, Giulia bevi l'acqua, benvenuta e non ti abbraccerò e io ti restringerò, adesso basta, grazie di questo invito, hai aspettato ben sette anni per invitarmi ci conosciamo da almeno dieci, questa cosa te la farà pagare oggi in trasmissione ma perché tu rifiutavi sempre il mio invito? no, non è vero, non l'ha mai fatto e adesso dirò tutto quello che non si sa su di te allora io però vorrei partire da un dato, allora chiedo alla legge di mostrare il mio tablet cioè quando vi ho detto che lei è mia amica ma non mi vuole abbracciare, è la verità cioè guardate questa foto del 2018 cara Giulia, possiamo mostrare guardate lei, io cerco di abbracciarla e lei non vuole, vedi che è vero? ma certo che è vero, detesto i tuoi abbracci perché sei troppo invadente, invadi gli spazi, capisci? ma io sono un amico, gli amici sono affettuosi no, non è vero, lo sai, lo faccio perché mi piace sfotterti e punzecchiarti lo so, è il tuo bello, ti voglio bene per questo, lo sai che è così allora, sei qui per presentare Pare Parecchio Parigi, il nuovo film di Leonardo Pieraccioni con te protagonista, grandissimo successo adesso ci arriveremo, prima però sono partito appunto da Sandra Milo voglio partire da quello che hai pubblicato tu su Instagram, una tua Instagram story tu hai scritto, ciao Sandra, una donna meravigliosa, gioiosa, affettuosa, generosa un'attrice che ha fatto la storia del nostro cinema, buon viaggio insomma mi faceva piacere ricordare con te Sandra Milo eh beh ci mancherà Sandra Milo secondo me era una donna indispensabile per il nostro paese e anche per i nostri tempi perché era una donna che oltre ad essere come hai detto tu e te un'icona del cinema italiano, ha lavorato con i più grandi del nostro cinema era una donna veramente generosa e veramente emanava amore da tutti i pori e soprattutto lo predicava che è un gesto quasi rivoluzionario per i nostri tempi lei non aveva mai nessuna invidia, nessuna cattiveria era sempre generosa, aveva questo sorriso meraviglioso io non ho mai avuto il piacere di conoscerla personalmente ma non so per quale motivo lei è venuta sul mio profilo Instagram un tanto tempo fa e mi scrisse un commento sotto una foto e io sono rimasta abbastanza sorpresa ma anche elusingata che un'attrice del suo calibro comunque una donna così veramente iconica avesse voluto perdere del tempo per farmi un complimento quindi poi da lì è iniziata una corrispondenza e non so, aveva sempre delle parole gentili, delle parole buone per tutte poi l'ho visto dai commenti che sono stati scritti un grande amore ma da parte di tutte le attrici quindi aveva questa attenzione per tante, tante donne bellissimo, bello, un bel esempio direi ecco ci ha lasciato un grande insegnamento secondo me ci mancherà tanto che bello, bellissimo insomma bellissimo anche il tuo ricordo allora c'è una sorpresa per te non la sai perché non te l'ho annunciata è qui, brava sta per arrivare un videomessaggio di una persona che ti vuole dire una cosa non te l'ho detto, mi dispiace perché tu non lo sapevi partiamo dalla clip 1 e vediamo chi ha da dirti qualcosa partiamo da qui questa è una bella sorpresa terrorizzata timeline timeline non mi riesci nemmeno a dirlo timeline so che avete costi in studio la meravigliosa bevilacqua io ora lo voglio dire è la mia sorella preferita è la più brava è la più bella è la più dolce è la più simpatia la Francini la mi ha bucato questo orecchio da quanto la chiacchiera da quanti messaggi la mi manda la mi comanda a bacchetta chiediti te dolce Giulia come mai non hai fatto tutta la promozione con noi ti ha portato la pozione magica il giorno prima l'hai bevuto è stata colpa della Francini se non hai fatto la promozione ma ora ti sei rimessa e noi si farà altri film e si fanno io e te prodotti da timeline di Rai 3 un bacio I love you you are my preferred teacher preferred prefered prefered ciao grandissimo Leonardo Pieraccioni a sorpresa grazie Leonardo madonna sì una sorpresa bellissima non me l'aspettavo Leonardo guarda è stato proprio è stata proprio una bellissima scoperta cioè per me è sempre stato un mito cioè io penso che forse uno dei miei primi ricordi legati al cinema il cinema italiano è proprio il ciclone di Leonardo Pieraccioni perché io ero abbastanza giovane sono andata a vedere il film di Leonardo e quella risata del pubblico attorno a me è un ricordo che mi ha fu un fenomeno anche di costume italiano quel film sì ma è stato un successo incredibile e l'esperienza di andare al cinema è anche bella per quello perché condividi un'emozione una risata che non ha non ha assolutamente lo stesso effetto che se lo vedi a casa da solo cioè condividere anche la risata è una cosa pazzesca e Leonardo è stato forse il primo che me l'ha fatto capire quindi quando mi ha chiamato per questo film mi ha chiamato lui direttamente io pensavo vabbè questo è uno scherzo dai ma adesso non so chi è Furio il nostro amico Furio Andriotti esatto che non sa fare il fiorentino quindi non era possibile ma Furio Andriotti lo ricordiamo il pubblico a casa bravissimo sceneggiatore autore insomma beh adesso sceneggiatore dice ancora domani di Paola Cortellesi quindi va bene è il nostro grandissimo amico che tra l'altro è lui che ci ha fatto conoscere è vero ma adesso per tornare a bomba su Leonardo Piraccioni poi quando abbiamo insomma quando mi ha chiamato per fare questo film non ci potevo credere e pensa che mi ha mandato la sceneggiatura e mi ha detto ci sentiamo nel weekend io quel weekend ho avuto un piccolo problema problema sì di famiglia insomma quindi non gli ho scritto una vita turbolenta dicendo Bevilac una cosa sì veramente va bene ok quindi il lunedì lui mi ha mandato un messaggio e mi ha detto quindi non lo vuoi fare il mio film pensa io che sento il messaggio di Leonardo che mi dice quindi non vuoi fare dico no certo che lo voglio fare è bellissimo e il film è davvero bellissimo è bellissimo io mi sono commossa già quando ho letto la sceneggiatura perché è un film molto tenero quindi un po' atipico per Leonardo perché ovviamente ha tutte le note comiche divertenti però in questo caso c'è una linea tenera molto veramente poetica legata a questo rapporto che i figli hanno con il loro papà in un momento che insomma tutti noi o abbiamo affrontato o dovremo affrontare che è diciamo la morte di uno dei nostri genitori e quindi e poi tra l'altro è tratto da una storia vera quindi questo lo rende ancora più poetico ancora più romantico cosa sta piacendo di più secondo te degli film perché mostro adesso questa locandina che è stata postata sui social vediamo pare parecchio pareggi campione di incassi perché ormai da settimane è alle vertici dalle classifiche cosa piace di più di questa commedia cosa ha colpito di più tanto da portare tantissime persone per fortuna nelle sale cinematografiche credo che sia proprio il fatto che parla di famiglia che è un tema secondo me sempre attuale sempre molto caldo per ognuno di noi parla di tutti quei nodi di tutte quelle incomprensioni che naturalmente ognuno di noi ha con qualcuno della propria famiglia o anche di quelle cose che non sono state risolte ed è un film che ti invoglia a credere che basta parlarsi basta provarci e quei nodi si possono si possono sciogliere e poi secondo me piace perché i personaggi sono tutti meravigliosamente imperfetti cioè loro sono tre bambinoni non cresciuti che hanno un bruttissimo rapporto non si parlano da tanti anni e tutti noi lo siamo così come lo sono le nostre relazioni è bella forse anche l'alchimia che si è creata tra di voi e anche i personaggi l'alchimia tra di loro quindi forse è quello che ci sono molto scusami perché poi io lo sai che parlo a manetta e mi perdo però dicevo che la sorpresa è stata che quando poi abbiamo iniziato le riprese ho trovato un uomo quindi non solo un grande regista un grande comico nel senso un grande ma un uomo veramente di una dolcezza non c'è mai stato un momento di tensione e soprattutto ci siamo fatti delle risate no ma tra l'altro ha lanciato questa proposta che il prossimo film con voi due deve produrre la timeline quindi insomma siamo insieme ci sono due promesse che io se non vengono mantenute faccio un macello Leonardo mi hai promesso che facciamo il tuo prossimo film insieme quindi questo me lo sono scritto e che verrà prodotto da Marco però i soldi non so se li metto da te questo va un attimo capito va bene però non ti libererai di me mi dispiace insomma basta che non mi abbracci va bene vedi alle nostre spalle che scorre un po' di timeline della tua vita vediamo alle tue spalle con Gigi Proietti qui ti vediamo in alcuni servizi fotografici sì bellissima una bellissima fotografia abbiamo visto prima che passava distretto di polizia qua ti vediamo sul red carpet insomma davvero red carpet questo voglio dirlo perché mi ricordo che fece scalpore il fatto che non avevo i tacchi ma avevo un paio di sandali bassi mi ricordo questa cosa tra le prime ma sì credo fossi stata la prima a non mettermi il tacco che io come vedi non amo tantissimo però devi sapere che qualcuno mi ha detto questa cosa questo aneddoto sulla tua carriera soprattutto quando studiavi al centro sperimentale mi dicono che quando facevi il centro sperimentale ed eri in classe con tre bravissimi attori ovvero Alba Rakvacher Valentina Lodovini Alessandro Roia durante un lavoro sugli animali hai tirato una pigna in faccia ad Alba Rakvacher ma è vero ci avevo visto lungo lo sapevo che avrebbe avuto il successo che hai e io strega quale sono volevo troncare la carriera volevi sabotare volevi sabotare Alba Rakvacher questo io lo so chi è stato perché è stato sempre il nostro amico pure Andreotti che dopo la trasmissione chiamerò e minaccerò e sì l'ho fatto cosa vogliamo dire ad Alba Rakvacher ti vuoi scusare o sei contenta no non le ho fatto niente quindi sta lì dove sta anche grazie alla tempra che le ho capito ho fatto venire è stato un incidente è stato un incidente va bene però devo dire l'ho presa proprio in piena faccia povera ma ha avuto dei segni delle cose no peccato purtroppo è andata male è andata male senti che ricordi hai di quegli anni in cui appunto studiavi al centro sperimentale poi dopo ho avuto una grandissima carriera che ricordi hai di quei primissimi anni anche per raccontarlo a tutti quei ragazzi che ci seguono Timeline è un programma molto social molto seguito cosa ti senti di dire ma allora mi sento di dire che è stato il periodo più bello della mia vita cioè se potessi lo rifarei domani il centro sperimentale intanto mi ha permesso di credere veramente nel mio sogno quindi fino a quel momento era sì un desiderio appunto un sogno del cassetto ma poi quando sono entrata lì lì sei protetta dentro quelle mura che ti fanno dedicare tutto il tuo tempo alla tua passione e ti fanno credere che potrebbe essere fattibile che si potrebbe raggiungere quel sogno ed è stato un momento bellissimo dove io ho imparato tantissimo non solo sulla recitazione ma anche su di me sui miei punti deboli sui miei punti forti e quindi consiglierei lanciare le ping è il punto di forza la forza c'è diciamo sì quello è il mio punto più forte no però direi assolutamente a tutti i ragazzi che hanno per esempio questa passione la passione per questo lavoro che lo studio è imprescindibile diciamo un po' lo dicevamo prima nel senso che bisogna sempre prendere le cose con serietà poi quando c'è il momento di scherzare si scherza e si ride io sono la prima che sul set faccio un gran cacciare però insomma quando bisogna essere seri è importante però lo studio ti aiuta ad avere una disciplina ti aiuta per esempio ad avere i mezzi per andare a capire dove cogliere le cose dove andare a trovare a pescare le cose che ti servono e per poi lavorare invece con serenità e anche con più leggerezza quando sei sul set un bellissimo messaggio insomma tra serio divertimento insomma un bellissimo messaggio importante allora momento gioco noi in ogni puntata abbiamo un momento divertente con l'ospite e quindi può partire la musica momento quiz senti la tensione basta che non è sulla geografia che sono assolutamente impreparata no è su Sanremo il nostro quiz social è su Sanremo insomma è molto amato anche dal nostro staff tecnico perché tutti aspettano di rispondere partiamo dalla prima partiamo dalla prima domanda eccola qui allora la prima domanda è la seguente allora cara Giulia chi è il più ascoltato in streaming di questa edizione Anna Lisa ricchi e poveri o i Colors allora io distinto direi Anna Lisa però visto che sono quant'è 30 anni che i ricchi e poveri mi guardare così che non ti posso suggerire mi guardi come se io direi così i ricchi e poveri risposta corretta bravo bravissima bene infatti vediamo qua i ricchi e poveri sono i più ascoltati poi seconda domanda questo è difficile vedi là le varie opzioni quale cantante fu inseguito dai carabinieri a Sanremo 2022 Emma Iva Zanicchi o Elisa 2022 due anni fa io questa cosa non me la ricordo io direi Iva Zanicchi che aveva tipo rubato il cappotto alla OXA risposta sbagliata non è vero venne in seguita Emma tanto è che lei postò anche la storia ma fu un disguido una cosa quindi sì Emma mi dispiace vabbè una giusta e una sbagliata Emma perdonala poi allora terza domanda questo è un momento storico Giulia perché è un momento caldo tre grandissimi intanto vogliamo dirlo è vero è vero della nostra televisione quale conduttore salvò il signore che voleva buttarsi dalla galleria lo so Mike Mike buongiorno Raimondo Vianello o Pippo Baudo risposta corretta l'ho visto in diretta perché me lo ricordo benissimo quel Sanremo che io ero già non dico grandicella ma non eri nata erano 95 avevo due anni effettivamente no io nevo tre veramente però valedetto lo posso dire valedetto in televisione certo che si può dire no no ero più grandicella mi ricordo che vinse Giorgia non lo so non è vero però mi sembra che c'era quell'episodio ti sconvolse me lo ricordo perché l'ho visto in diretta e mi sconvolse tantissimo allora qua siamo sulle coppie quale coppia litigò in diretta sul palco Albano e Romina Bugo e Morgan Mahmood e Blanco avrei voluto assistere alla litigata tra Romina e Albano devo dire hanno litigato fuori una litigata di coppia però no questa me la ricordo Bugo e Morgan brava risposta corretta le so tutte deve andare all'eredità ma non c'è solo una l'ho sbagliata solo una vediamo la prossima ed è l'ultima la prossima è l'ultima ed è per i più intenditori perché è un episodio particolare vediamo non lo so non lo sai io non so allora ecco qua tu qua vedi tre conduttori e ti chiedo chi condusse l'edizione in cui l'orchestra si ribellò lanciando gli spartiti Bonolis Conti o Clerici? la faccia no questa non la so quindi dico Bonolis risposta sbagliata è Antonella Clerici ma perché si è ribellata l'orchestra? perché perché vennero eliminati dei cantanti bravi e quindi per liberarsi al televoto l'orchestra lanciò gli spartiti ah no non me lo ricordavo si vede che quell'anno non c'è comunque tre su cinque brava hai superato il quiz bravissima quindi vengo Sanremo con te vieni con me faccio la co-conduttrice esatto noi ci alziamo innanzitutto io voglio ringraziare la mia amica Giulia Bevilacco non ti sto abbracciando troppo un pochetto però vieni a qua e lo sopporto allora tutti al cinema a guardare Pare Parecchio Parigi siamo nel weekend quindi insomma il modo migliore esatto andare al cinema e io vi dico che domenica prossima ci vediamo in diretta da Sanremo ti porto? io vengo faccio come la Marcuzzi per Fiorello io vengo a fare la tua mi hai fatto un paragone stupendo per Fiorello anche per me per la Marcuzzi siete entrambe bellissime ovviamente tutte e due le gambe lunghe però devo dire questa è l'unica caratteristica siete bellissime siete bellissime quindi ci vediamo in diretta da Sanremo domenica prossima alle 10.45 grazie a tutti e a tutti e grazie Giulia Bevilacqua andate tutti al cinema ciao grazie a tutti andate al cinema mi raccomando sì sì grazie a tutti grazie a tutti